Torre Grossa È intitolata Rosa Balistreri, una delle icone artistiche della tradizione siciliana, la nuova casa della musica inaugurata ieri a Licata, nella suggestiva cornice offerta dal teatro comunale Regrirlo, un evento che ha puntato ai riflettori sulla musica a 360 gradi, dal tradizionale al classico, passando per il folk. Hanno presenziato eminenti personalità del mondo artistico e culturale del settore che con la loro presenza hanno voluto dare un valore aggiunto alla manifestazione. Per noi ricevere tutti i complimenti e avere trasmesso quello che abbiamo trasmesso questa sera con gente che ci è venuta a trovare, a dire siete eccezionali, ci avete trasmesso delle grandi emozioni, per noi è il risultato di musicisti quello che noi siamo e che cerchiamo sempre di comunicare con gli altri perché poi alla fine la musica è un linguaggio universale. Con qualsiasi strumento si può spaziare a qualsiasi tipo di musica, l'importante è dare. La scuola della musica di Licata, diretta da Berta Ceglie, nasce su iniziativa dell'amministrazione comunale di Licata in collaborazione al prestigioso conservatorio musicale Vincenzo Bellini di Palermo, ad opera del suo direttore Daniele Ficola. Sarà un luogo deputato allo studio e all'approfondimento dei vari strumenti musicali, oltre che punto ti ritrovo per tutti gli artisti del territorio. Nel mese di gennaio del 2011 ho cominciato a lavorare a questo progetto, progetto di apertura di una scuola civica legata al conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. Finalmente, dopo tanti tentativi, dopo tante difficoltà, ci siamo riusciti. Il 3 di aprile si è firmata questa benedetta convenzione tra il nostro sindaco, Angelo Graci, tra il presidente del conservatorio, dottor Daniele Ficola, e tra il presidente dell'associazione Sicilia Mara, Rosa Balestrere, il signor Luca Torregrossa. Questo obiettivo noi l'abbiamo raggiunto. Ora lo deve raggiungere pure la città. Ad impreziosire la serata, numerosi ospiti del settore musicale e non. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni, anche il vicepresidente del conservatorio, Domenico Sanfilippo, che ha voluto testimoniare il totale appoggio dell'istituto musicale alla nuova casa della musica. Il palcoscenico del teatro è stato calcato da numerosi artisti, produttori ed anche celebri autori musicali, come Gianni Belfiore, scrittore di canzoni assai note al grande pubblico, come la celebre Semilasci non vale, portata al successo da Jule Iglesias, dando così il loro contributo a questo evento di grande caratura artistica. Il primo disco con Rosa Balestrere era come se io le trasmettessi la canzone come doveva essere cantata. Cioè c'era un contatto radio fra cervello e cervello suo e la voce. Una cosa bellissima. La stessa musicalità c'è nelle canzoni siciliane, nel sonetto in musica che risale a Jacopo Dalentini del 1100. Quindi però il grosso vantaggio che ha è che ogni frase è un pensiero compiuto, per cui non si perde l'ascoltatore, perché la canzone è un messaggio pubblicitario, cioè è molto più serio, è una cosa come un circuito stampato che deve essere perfetto. Già, 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 Già. Grazie. 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 Grazie.